Il sindacato Covas organizza per domani, venerdì 8 novembre alle 9, un sit-in davanti all'autorità portuale dove è previsto un incontro con responsabili dell'ente portuale, mentre martedì 12 novembre alle 11 è già fissato un incontro con il prefetto di Brindisi, Luigi Carnevale. L'obiettivo è quello di tenere destra l'attenzione sulla vertenza dei lavoratori SIR e delle altre imprese dell'indotto della centrale di Cerano. Attualmente 24 lavoratori della SIR legati all'appalto dello scarico del carbone sono in cassa integrazione, altri 50 sono impegnati a presidiare le banchine ormai vuote fino al termine dell'appalto Enel che scade il 31 dicembre e quindi a partire dall'1 gennaio raggiungeranno i primi 24 in cassa integrazione. Per proseguire la cassa integrazione però per i 74 lavoratori alla scadenza di un anno a luglio 2025 occorrerà un apposito finanziamento nella prossima legge di bilancio che il governo si appresta a varare. Da qui le preoccupazioni del sindacato per la prosecuzione della cassa integrazione e per il futuro di questi lavoratori. I Cobas peraltro hanno sempre sostenuto che la cassa integrazione deve essere utilizzata per avere tempo per un'alternativa occupazionale a partire dalla richiesta immediata di smantellamento della centrale Enel di Cerano, degli scaricatori di Costa Morena e del nastro trasportatore. E poi bisogna lavorare per non perdere l'occasione per gli investimenti alternativi che sono stati prospettati nella riunione in prefettura del 20 settembre scorso con i rappresentanti del ministero competente delle nuove aziende che hanno proposto delle idee progettuali. La prima occasione è stata legata alla liberazione delle banchine di Costa Morena per fine anno. Bisogna affidare queste banchine ad aziende di carattere nazionale per dare una nuova occupazione a chi è stato licenziato come dipendenti della SIR e a chi perderà il lavoro a Cerano già a partire dalle prossime settimane. Grazie.